Ecco la pozione magica che dà una forza sovrumana. È un regalo. Si può assaggiarla per essere sicuro? No, tu no! Non vi resta che ammutinarvi e fuggire. Siete liberi. Bene. Sarei tentato di dirvi grazie, ma la fuga è realmente una via d'uscita? Come? Voi parlate di fuga, ma la fuga non è forse forzando volontariamente il significato, una forma di schiavitù? Direi piuttosto l'inizio di una forma di libertà. E tuttavia non c'è fuga senza oppressione. Io vi stuzzico, ma si potrebbe discutere. Oh, ma io vi sto solo offrendo una pozione. Ho capito, ma vorrei tornare sul concetto. O prendi una pozione o ti incollo al muro! Perfetto, perfetto. Che cosa è successo? Una bella testimonianza di rispetto dei nostri vicini galli. Ah no, eh? Voi no! Non è il momento! Allora, a partire da oggi, ci spetterà una paga equivalente a quella dei legionari. Vogliamo le ferie, due pasti al giorno... Come? Tre. Ah, sì. Allora, tre pasti al giorno... E basta. Per niente. Quando il primo edificio del Regno degli Dèi sarà costruito, vogliamo essere affrancati. Affrancati? Liberi. Ah, sì, sì, liberi. E pretendiamo un alloggio nell'edificio che avremo costruito. Ecco, è una cosuccia in più. Echimi! Shhh! Non vorrai accettare? Sì, mi sa che è meglio. Affare fatto? Sì, mi sa che è meglio.